vi piacerebbe poter investire si e no 10 centesimi e poi ritrovarvi nell'arco di tre mesi all'incirca il 5.000 per cento sull'investimento effettuato ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale io sono davide oggi voglio andarvi a parlare di un nuovo fenomeno che sta spopolando da circa novembre fino ad oggi che sta esplodendo grazie anche un po all'hype che si è creato grazie al fatto che è stato paragonato a bitcoin proprio per la crescita esponenziale che ha avuto il valore degli investimenti effettuati all'interno del gioco sto parlando di earth 2 un nuovo progetto una nuova startup che è stata lanciata a novembre 2020 e ad oggi ha creato un hype così tanto esagerato da andare a bloccare addirittura i server dell'azienda ma prima di cominciare come al solito vi chiedo di lasciare un like a me serve tantissimo per crescere su questa piattaforma di commentarmi qui sotto con qualsiasi domanda dubbio o curiosità di andarvi a iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare ma cos'è earth 2 earth 2 non è nient'altro che una trasposizione della mappa praticamente di google earth che è stata suddivisa in tails ossia in quadratini 10 per 10 ed è stata messa in vendita a un valore iniziale di 0,1 dollaro ossia 10 centesimi di dollari e che grazie al mercato che si è andato a creare sopra proprio la piattaforma ha incominciato a crescere in una maniera esponenziale ogni tail non era nient'altro che una piccola porzione di terra che poteva essere acquistata su per esempio un colosseo quanto anche su la statua della libertà o sull'empire state building o magari sulla torre eiffel su qualsiasi parte della terra tutti questi tail sono stati messi in vendita totalmente allo stesso prezzo e grazie poi al mercato creatosi sopra hanno incominciato a variare di prezzo a seconda delle zone più era richiesta una zona più era richiesta una parte di una nazione e più il prezzo in quella nazione e in quell'area incominciava a crescere fino ad arrivare ad oggi ad avere un prezzo in alcune parti dell'america di addirittura 25 30 dollari per singolo tails partendo da 10 centesimi ma come funziona beh molto semplice basta andarsi e scrivere all'interno della piattaforma collegare una carta di credito o magari un servizio come paypal per andare a pagare in automatico nel momento in cui andrete a selezionare i tail che volete acquistare potrete poi andare a visionare il prezzo totale nel momento in cui lo state andando acquistare e andarla a pagare col credito ricaricato grazie proprio a questi servizi ma come si può guadagnare su questa piattaforma su questo mondo in questo progetto beh ci sono tre metodi di guadagno il primo metodo è quello che vi ho spiegato già prima ossia andare acquistare sul mercato primario e andare a rivendere sul mercato secondario il mercato primario diciamo che possiamo definirlo come il mercato che è stato creato dall'azienda quindi la vendita di ogni singolo tails a partire da 10 centesimi e poi con l'accrescimento della richiesta in alcune zone anche l'aumento del prezzo per singolo tails ma insomma il mercato primario è nient'altro che acquistare una porzione di mappa che non è stata mai proprietà di nessuno il mercato secondario invece è nient'altro che una porzione di mappa acquistata già da un utente che dopo aver investito circa 10 euro facciamo un esempio ha avuto poi un apprezzamento quindi una crescita in percentuale di quel terreno e l'ho andato a rivendere proprio all'interno del mercato secondario dentro al sistema dentro al programma dentro alla piattaforma purtroppo non so ancora come chiamarla perché è molto molto ai primordi come è successo e quindi ancora non si è capito se è un gioco se è una piattaforma se è un progetto in startup il secondo metodo è quello classico con il referral ogni persona che va ad aprire un account e va ad acquistare un terreno ha la possibilità di ricevere un referral code è un numero che nel momento in cui viene inserito all'interno di un successivo acquisto da un altro utente andrà a regalare all'utente che è proprietario del referral il 5 per cento del proprio investimento mentre a colui che ha inserito il codice di quella persona avrà un 5 per cento di sconto e il terzo metodo di guadagno che probabilmente è quello più ambizioso quello più interessante va a creare una specie di rendita passiva ossia il fatto di poter avere un terreno all'interno per esempio dello stato italiano ti permette in base alla classe del terreno che si divide in tre di avere una continuità di guadagno basata sulle tasse che vanno a pagare tutti gli utenti nuovi che vanno ad acquistare un terreno nell'area in cui tu hai già la tua proprietà ma il progetto in sé per sé cosa mira a fare quale sarà l'evoluzione di questo progetto da qui a 1 2 3 4 anni beh il progetto mira a creare una earth 2 quindi una terra parallela che darà la possibilità nel futuro di poter accedere a qualsiasi utente come magari avete mai visto ready player 1 il film che uscì tanto tempo fa al cinema e questa possibilità sarà quella di poter utilizzare un visore entrare all'interno di questa terra e poter magari camminare andare a visitare monumenti andare a visitare costruzioni costruite proprio dagli utenti stessi proprietari all'interno di questo nuovo pianeta parallelo ci sarà la possibilità di commerciare ci sarà la possibilità di avere delle materie prime che saranno utilizzabili per costruire altri beni di consumo e ci sarà anche la possibilità di creare mercati paralleli che potranno essere tranquillamente simili o magari del tutto diversi da quelli che noi momentaneamente viviamo ogni giorno ma dopo avervi detto tutte queste cose ci sono dei pro e dei contro in questa piattaforma diciamo in questo progetto i pro sono il costo basso dei vari tail all'inizio e ancora oggi ci sono dei tail che valgono ancora 10 centesimi di dollaro la possibilità il potenziale di crescita a livello economico di ogni singolo tail addirittura ci abbiamo un 5000 per cento in italia e in altre nazioni addirittura oltre il 5000 per cento di apprezzamento per ogni singolo tail un team valido che ha dei nomi molto blasonati tra cui anche il cofondatore di oculus ossia quel progetto che andava a promuovere in crowdfunding un visore che poi è diventato il quest ossia uno dei visori migliori che esista in circolazione in commercio ad oggi e poi la semplicità di ingresso all'interno della piattaforma basta loggare quando si riesce e acquistare un singolo tail e avere una possibilità di rendita e quindi di apprezzamento del vostro investimento che potrebbe portarvi ad ottenere un incremento del vostro capitale nettamente superiore a un qualsiasi altro investimento addirittura quello del bitcoin ma ci sono anche dei contro è il primo contro che vi ho già diciamo accennato prima è l'impossibilità di accesso ebbene sì purtroppo questo progetto è esploso in una maniera così tanto esponenziale da andare a creare dei problemi ai server stessi della startup in questa maniera nel momento in cui uno cerca di accedere all'interno della piattaforma esce sempre lo stesso avviso ossia che il server è in mantenimento oppure ops c'è stato un problema insomma queste cose proprio perché purtroppo in questo momento i server sono così tanto intasati a causa dell'hype che si è creato grazie proprio a questa esploat del valore di ogni singolo tail che hanno creato un intasamento all'interno di tutti i sistemi di accesso l'azienda è inesistente per legge ogni volta che si va a pagare con moneta fiat o un qualsiasi servizio c'è bisogno sempre di avere un riferimento all'azienda che sta ricevendo i tuoi soldi e sta dando questo servizio in questo caso purtroppo la piattaforma non esiste per queste cose e quindi praticamente al momento la piattaforma è fuori legge i pagamenti bloccati cosa significa come vi ho già detto nel momento in cui voi andate ad acquistare a un certo prezzo e a rivendere a un prezzo superiore teoricamente i soldi che sono stati spesi per andare a vendere vi torneranno all'interno del vostro conto sulla piattaforma ma per andare a ritirare e questo è un altro problema i propri fondi c'è bisogno di andare a fare una procedura un po macchinosa ossia andare a richiedere il ritiro dei propri fondi e inviare un'email al servizio che in questo momento a detta dei founder non riesce a gestire tutte le richieste che stanno ricevendo inoltre ascoltando alcune informazioni e opinioni di gente che già all'interno della piattaforma è soltanto possibile ritirare il 5% prodotto dal referral link un po particolare come cosa i progetti sono campati in aria cosa significa esiste un regolamento scritto ma è anche vero che questo regolamento lascia un po all'immaginazione tanti aspetti di una piattaforma dove si vanno ad investire dei veri e propri capitali che possono essere tranquillamente calcolati in centesimi in 10 centesimi ma anche in migliaia di euro e in centinaia di miliardi di euro e con la mancanza di queste regolamentazioni di questi regolamenti del gioco o comunque della piattaforma da un momento all'altro nel momento in cui verranno implementate queste regole che saranno ferre salde non so potrebbero cambiare nettamente il gioco e quindi magari andare ad apprezzare un terreno che fino all'altro giorno era stato valutato 10 centesimi e andare a deprezzare un terreno che momentaneamente invece magari vale per ogni singolo tails 30 40 50 dollari e in ultimo non per importanza la mancanza della certificazione della sicurezza a due fattori cosa che purtroppo non è stata inserita all'interno della piattaforma e quindi lascia un po a pensare a tutte le persone che magari sapendo di investire determinati quantità o potendo essere delle persone che possono investire determinate quantità di capitale vengono frenate proprio perché purtroppo non c'è una sicurezza implementata maggiore rispetto a quella che abbiamo già momentaneamente ossia la singola password inserita alla registrazione dell'account ma adesso trago le mie conclusioni ad oggi questo progetto è un progetto bellissimo interessantissimo è una possibilità di poter giocare all'interno di un'altra terra di un altro pianeta dove noi utenti potremmo andare a costruire tutto l'ecosistema da quello visivo a quello funzionale ma è anche vero che momentaneamente è soltanto un'idea che purtroppo è totalmente campata per aria perché non ci sono le fondamenta partendo dai servizi partendo dalla funzionalità della piattaforma partendo come vi ho detto già dalle regole e dalla sicurezza inoltre andare a investire all'interno di questa piattaforma potrebbe essere un possibile investimento anche perché andando ad investire soltanto 10 euro con un aumento del 5.000 per cento del valore investito ci saremmo potuti tranquillamente ritrovare con 500 euro che non sono per niente male ma è anche vero che andando ad investire queste quantità all'interno di una piattaforma che non ti dà garanzie tira soltanto all'interno di questa piattaforma delle persone che vogliono scommettere la 10 la 20 la 30 euro andando ad acquistare piccole persone di terreno che magari sono anche riferite alla propria casa e quindi non si crea un vero e proprio ecosistema di persone interessate alla piattaforma ma soltanto di persone che sono di passaggio e che sperano che con quelli 10 euro si possono comprare l'iphone quindi stiamo parlando di un qualcosa che ha delle possibilità grazie al prodotto ideato da queste persone molto grande ma in realtà non è spinto dalla community a causa proprio della mancanza di sicurezza e di informazione dato dall'azienda stessa e adesso la domanda delle domande ma io ho investito beh come vi ho già detto ragazzi è impossibile accedere mi sarebbe piaciuto tantissimo investire proprio come vi ho detto 10 20 euro per vedere come sarebbe potuto andare da qui a 1 2 anni questo progetto ma purtroppo momentaneamente è impossibile accedere e vi dirò anche un'altra cosa ringrazio il fatto che non è possibile accedere proprio perché in questa maniera stanno creando un hype su questa piattaforma e stanno creando anche un'attenzione da parte di persone che magari potrebbero andare a controllare e regolamentare questo servizio per poi darci una mano magari a capire qualcosa in più e se dovesse risultare uno scamp bel e buono potrebbe tranquillamente chiudere da un momento all'alto senza magari fa perdere dei grossi capitali alle persone perché sperando che abbiano ragionato come sto ragionando io hanno investito piccole quantitativi di capitale anche perché la sicurezza del progetto e la sicurezza proprio dei propri fondi all'interno della piattaforma è così tanto bassa da non poter dare una possibile visione a lungo termine del proprio investimento io vi ringrazio per aver visto il video spero di essere stato chiaro come al solito avervi dato tutti gli spunti necessari per cercare di pensare di ragionare se investire o meno all'interno di questa piattaforma vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivetevi al canale attivare la campagna per rimanere sempre ragionati su tutti i video che vado a caricare e andare a visitare il mio account instagram davidevasco85 dove condivido notizie in tempo reale e se volete contattarmi su telegram davidelinetta bassa vasco grazie a vervi sul video e al prossimo video ciao a tutti